Era l'8 giugno del 2000 quando il dottor Silvio Cribari morì travolto da un gommone della guardia di finanza durante una battuta di pesca subacque a San Foca. Il compagno in immersione con lui si salvò per un pelo. Un fatto di cronaca che fece scalpore all'epoca per il coinvolgimento di quattro finanzieri impegnati in un'operazione di polizia giudiziaria. Dopo otto anni di causa penale due di loro furono assolti, gli altri due condannati a quattro mesi di reclusione per omicidio colposo. Parallelamente il giudizio civile che a distanza di 14 anni è ancora pendente. Tre anni fa la richiesta di risarcimento per danni conseguenti all'espletamento di servizi di ordine pubblico per il quale il Ministero ha delegato la locale prefettura che deve provvedere alla materiale liquidazione. Secondo il DPR 388 in tempi massimi di 120 giorni. Invece sono passati tre anni e la pratica è bloccata per motivi inspiegabili con un rimpallo tra Ministero e Prefettura che continua a richiedere chiarimenti non necessari stante la disponibilità già recepita di tutti gli enti coinvolti. A denunciare la vicenda di burocratica follia alla moglie della vittima che ha diffidato il Ministero, la Guardia di Finanza e la Prefettura contestando al di là del mancato risarcimento il danno morale. È incredibile come dopo 14 anni dall'evento luttuoso dove mio marito Silvio Cribari è stato ucciso dalla Guardia di Finanza in seguito a una battuta di pesca, mi trovo ancora oggi a combattere contro le istituzioni. Mi trovo a combattere, oserei dire, a soccombere contro le istituzioni. Ho bisogno, io e mia figlia ripeto, abbiamo bisogno di chiudere questa vicenda.